Vangio del giorno di domenica 28 aprile 2024 Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettono nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore Lode a te, o Cristo